Salve io sono Pio e bentornati nella mappa parkour limbo Signori come sempre e come al solito ci troviamo esattamente dove c'eravamo lasciarli nello scorso episodio E cioè in questa stanzetta di merda dove a quanto pare c'è l'inizio del livello Che almeno per il momento non sembra complicato ma sono abbastanza sicuro che già da come ho visto Vabbè da qui non si vede vediamo se lo riusciamo a vedere da più avanti in qualche modo Ok da qui ok Cioè ho già come abbiamo visto alla fine dello scorso episodio si prospetta molto bestemmioso con tutte queste slab su cui saltare Ora la cosa divertente è che io già qua non sto capendo dove devo andare quindi bene ma non benissimo Spero non qui ma a quanto pare sì E infatti perfetto mi è andata proprio di culo Ottime ok Sembra stare andando tanto di culo E ovviamente mi deve mettere il salto bastardo infame Per fortuna ce l'ho fatta farlo molto semplicemente Oh mio dio qui si può uscire Oddio si può uscire per andare a fanculo però che qui non ci può andare da nessuna parte Ti prego non dirmi che devo saltare qui ad angolo Non dirmelo ti prego Ti prego non me lo dire Dai non voglio Perché devo saltare dietro l'angolo che due coglioni dai Ma è complicatissimo ma non è infatibile il suo salto di merda Ma lo sappiamo benissimo che è un casino da fare Ma perché mi devi far bestemmiare maledetto oddio maledetto Ma perché Perché devi fare così Creatore della mappa ma perché mi vuoi male Ma io dicono Allora io capisco tutto capisco che sei divertito a fare E a parte qui sotto c'è tipo un altro nascosto E tipo il sottoscala di Harry Potter Le dimensioni sono più o meno quelle Ci manca la porticina ci manca Forse Harry Potter aveva un po' più privacy Che poi io che porco dio Ma come cazzo che non riesco ad arrivare mai a dentro C'era sopra Ma vaffanculo E mi sento proprio un coglione Vabbè niente Andiamo qui Saltiamo qui dentro Vediamo se riusciamo a fare i magheggi che ho fatto prima Per arrivare lì sopra Se no se non ci riesco a prima botta Interrompo la registrazione come al solito E poi porca puttana Oh cazzo ce la sto facendo però eh Beh beh vi devo dire Non ci credo Non ci credo Perché Stava tanto tutto così bene Ma perché Perché non faccio attenzione Ma che problemi ho Stava andando tutto così liscio Liscio come l'olio Olio di merda che evidentemente c'ho sotto i piedi Che cazzo di quel Cristo di Dio Scivolo dai blocchi Mi sono praticamente buttato giù Come se fossi scivolato Veramente Cristo Maledizione Ma vedi che diventa complicata pure sta parte di merda Che fino adesso ho fatto senza problemi Ma porca madonna Ma cosa mi dice la testa Ma vogliamo stare un po' più attenti Cioè Parlo con me stesso Vogliamo stare un po' più attenti Cristo Eh Maledizione Ma va Come la devo fare sta parte Scusa E Cristo Dio però E che cazzo Che poi su quei cosi Non credo si possa saltare Troppo Perché se no facevi Eh e poi saltavi là Facevi Eh e poi saltavi là E poi Eh e poi saltavi là Però non credo si possa fare Vabbè Niente Ritentiamo Che vi devo dire Riusciamo a fare magari sto salto in qualche modo Niente Non c'è verso che io riesca ad entrare lì sopra Devo per forza andare da qui sotto Vabbè Niente E dicevo Ritorniamo lì sopra Sperando di farlo il più velocemente possibile Facciamo giusto il tentativo Veloce Se non ce la faccio subito Poi C'è C'è Eh c'è 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 Niente Sono stupido Comunque dicevo Ci vediamo poi in caso Dopo quando arrivo lì sopra Ma secondo me ce la posso fare nuovamente In modo molto semplice Invece no Perché io Devo imparare Che mi devo stare zitto Perché se non mi sto zitto Come dico una cosa Mi gufo Ma Cristo Dio Peggio di Sinergo con Redes Quando giocano a Che cazzo è Pimbo Quel gioco di merda Che come cazzo si chiama Il gioco con la pallina Che deve andare su Peggo L'economia veniva Cristo Dio Cioè ma è così largo con Redes E così gufo Cioè io mi gufo le cose da solo Ma in modo impressionante Cioè sono un gufo professionista Un gufatore Scusate Professionista Mi dovrebbero dare Non lo so L'accertato Il certificato Lo potrei fare proprio di professione Come lavoro Ma pagatemi per fare il gufo Eh volete che Il vostro Amico Che magari ha messo al fanta calcio Che ne so Cristiano Ronaldo Io dico giusto quelli che conosco Perché il calcio non lo seguo Comunque Non lo so Il vostro amico Che ha messo al fanta calcio Cristiano Ronaldo Volete che Cristiano Ronaldo Si rompa una gamba Ecco lo dico io Cristiano Ronaldo Domani Quando gioca Se gioca domani Non lo so Però quando giocherà Si romperà una gamba Cristo santo Sono una cosa impressionante Ma porca puttana È una cosa incredibile Come gufo io le cose Ma Cristo Poi non sia mai Che io mi gufo una cosa in positivo Tipo Dico magari adesso ce la faccio Faccio questo salto Così e ce la faccio No un cazzo Porco Dio Maledizione Che palle Vaffanculo Vabbè Niente Ci vediamo poi Sopra qui Lì Ci vediamo là Vaffanculo Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Allora Come vedete sono qui sopra Su sta stanghetta di merda Sono Enderod Queste se non sbaglio Si chiamano Non mi ricordo Comunque Non sono caduto qui sopra Mi sono buttato volontariamente Perché Quando sono caduto Negli altri tentativi Che ho fatto off camera Da questa parte centrale Ho visto Da questo lato E tipo qui dietro C'è una scalita Ok Che si trova più o meno All'altezza di queste Enderod Che come altezza della scalita Mi porta In questo Questo punto C'è questa altezza Dove c'è tipo il balconcino di vetro Che si intravede qui Tipo lo spigolo Si intravede Sono pannelletti di vetro Quindi è difficile vederli Comunque tipo Si vede quel coso Lì sopra del pannelletto E niente Quindi mi ha fatto pensare Che io debba fare il parcurso Queste Enderod Che effettivamente è più fattibile Che saltare qui dietro Anche se si può fare Ma in modo molto molto complicato Però credo sia più fattibile Saltare sull'Enderod E quindi dobbiamo fare tipo così Almeno credo Però lo scopriremo a breve Eh Cristo Dio Però tu mi vuoi malissimo Ma porco Dio Vabbè niente Comunque c'è una scaletta lì sopra E quindi noi in qualche modo Dobbiamo arrivare lì E poi salire sulla scaletta E salire poi Sul balconcino di vetro Cioè su questo balconcino di vetro Ecco quello E sicuramente là Ci sarà la porta di entrata Che ci porterà dentro Dobbiamo salire in qualche modo Poi siccome gli sto vedendo Un'altra scaletta Sicuramente dobbiamo fare tipo Non lo so Un altro parkour Su queste Enderod di merda Poi scaletta Poi lì sopra Ma non lo so manco io Dove si arriva Ormai questa mappa Dopo che nel livello 25 C'era l'albero Ormai si è andato a peggiorare Ma ormai i livelli Che durano 47 ore Ma non è tanto Amiche le gioca il creatore della mappa Quello lo stronzo Avrà fatto la mappa Non l'avrà mai manco giocata Ha detto Ma si fatela Se ci riuscite Bene Se non ci riuscite Cazzi vostri Avrà fatto tipo Non lo so One Piece Perché segue One Piece Avete presente Gold Roger Quando viene giustiziato Che dice Cercate Come dice Prendete il mio tesoro Tipo Se volete Cercatelo pure Provateci Chissà se qualcuno di voi Ci riuscirà Ecco Esatto Più o meno la stessa cosa Chissà se qualcuno Ci riuscirà mai A finire sta mappa E la stessa cosa Più o meno Che ha detto Il creatore della mappa Quando l'ha finita Ha detto Ah chissà se qualcuno Ci riuscirà a farla Stronzi Io non la faccio Fottetevi Se volete fatela Questo veramente Ha fatto tipo Dio Nella Bibbia Che è al settimo giorno Si è riposato Questo qua Quando ha finito Di fare la mappa Ha detto Io me ne sbatto il cazzo Tanto io l'ho creata La mappa Vosso cazzi vostri Se la volete fare La volete fare Io non la devo neanche fare Tanto sono il creatore Dico che l'ho fatta Dico che è fatibile Ma poi cazzi vostri Io mi riposo Dopo che ho finito Di fare tutte queste puttanate Se riesco a fare il suo salto Però solo sopra Il sottoscala di Harry Potter Cristo Dio No non ce la sto facendo più Non ci credo Ce la facciamo Ok perfetto Qui non ci riuscirò mai Ad entrare Infatti Ok Vabbè niente E ritorniamo sopra Poi ci vediamo lì sopra E niente Continuiamo Perché sennò qui Veramente si allunga Un po' troppo la cosa Io fra l'altro Ai 30 Mi sa dovevo chiudere Potrebbe essere Non lo so Che ho iniziato No ho iniziato E 25 mi sa Quindi mi mancano tipo 5 minuti di registrazione Sì probabilmente sì Vabbè niente Ci vediamo dopo Vaffanculo Vediamo se riusciamo A fare quel salto Che palle Allora signori Sono di nuovo qui A suo giro Sporgiamoci un po' Tipo così Andiamo un po' più avanti Facciamo così Cristo addio Cristo addio Cristo addio Ah che palle Vabbè niente Ci vediamo Andiamo qui sopra Che vi devo dire Tanto ormai I video vanno così Vaffanculo Ci vediamo qui sopra Niente signori Ok l'ho fatto di corsa L'ho fatto senza fermarmi Ho fatto di corsa E ci sono riuscito Non mi rompete il cazzo Non mi ricordo se ve l'ho fatto Cioè non mi ricorderò Sicuramente Di farvelo vedere Sicuramente Perché stavo zitto Come al solito Mi dimenticherò Perché tanto il software Di intelligenza artificiale Taglierà la parte In cui stavo in silenzio Però se mi ricordo ve lo faccio vedere Ma andate non mi ricorderò sicuro Perché tanto mi scordo Ogni cazzo di volta Che edito un video Perciò attaccatevi al cazzo L'ho fatto saltando di corsa È fattibile Ok è fattibile No vediamo di non morire Cadendo proprio qui sopra Che sono relativamente facili Per finito Ok Siamo riusciti a stare Su questi scalini di merda Ma vediamo di fare puttanate Vediamo di entrare qui dentro Ecco qui bisogna Bestemmiare Immaginavo Ok cerchiamo di non fare puttanate Guardiamoci sempre sopra la testa Non si sa mai che c'è tipo qualche blocco Che ci impedisce di saltare liberamente Tipo questo Ok Ok Tipo quest'altro anche Ok Qui siamo relativamente liberi Credo di dover andare lì Ma non ne sono proprio così sicuro Cosa dice quel cartello Non si capisce un cazzo Sarebbe bello avere la Optifine Per ingrandire Ma mi sa che ci attacchiamo al cazzo pesantemente Vabbè Credo di dover andare qui Può essere Eh però Scusa Io faccio così Non ci credo Non ci credo Che figlio di putana Che figlio di troia Ha messo il blocco invisibile sicuramente Perché non mi ha fatto saltare Ma che figlio di putana Vabbè vaffanculo Si poteva fare semplicemente Ok Ok Cristo Cosa c'è scritto Jump on the poles around the corner The poles The poles che cos'è Così Oh 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 Mi è andata molto di culo Ok Perfetto Quindi era tipo così Ah the poles sono le endrod The poles Le poles di mammita Di mammita Anzi Come Cristo Dio Oh ok Sì devo fare così effettivamente Perfetto Perfetto un paio di palle Dio Dio santissimo Cristo Che coglioni Ma che fastidio Dai vediamo di non fare putanate Andiamo relativamente tranquilli Vediamo di non morire male Ok Cristo Dio Ah sono proprio morto Ok perfetto Ottimo Ottimo così Sono livello 29 Ormai Proprio una cosa impressionante Io non oso immaginare Fin dove si protragga Visto che poi dobbiamo salire pure lì sopra Però porca putana All'altro credo sia finito anche il tempo per registrare Ma Cristo Dio Boh Vabbè Niente Eeeh Facciamo un altro orientativo Che vi devo dire Ridentiamo e vediamo Dove arriviamo Vaffanculo Allora signori Mi trovo leggermente più sopra Vabbè Noi semplicemente Stavamo qui Sono andato un po' più avanti Off camera Perché l'ho rifatto un po' di volte Anche per capire quanto fosse lungo sto livello E niente Poi vabbè Da qui si salta sulla scaletta E poi si arriva qui sopra Ovviamente qui dobbiamo salire Qui c'è il cartello Che abbiamo Se non sbaglio Visto prima C'è scritto Clean the must first Important Eeeh Ok The must cos'è l'antenna Proviamo a saltare Qua sicuramente Ovviamente Bisogna andare di lato Sì Vabbè Ci metteremo tre anni Tre anni a saltare Soste cose Sicuro Ma porco Dio Vabbè niente Eeeh Tanto so già che non è infattibile Ma vaffanculo 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 Eeeh You just opened the door To the next day Poi non c'è di più Ok Eeeh Niente Ti bastava aprire la porta Per il prossimo livello Di goditi la vista La vista di tua madre Quella grandissima Eeeh Brutta persona Bene Eeeh Sì La vista è bella Per carità Perché la mappa Come ho detto nel primo episodio Di questa mappa E parte quell'albero di merda Però la mappa comunque è bella Molto molto carina Strutturata bene Solo che è Bastarda infame Ma proprio tantissimo Ottimo Io mo non mi posso neanche buttare Capito Devo scendere pure le scale Quanto devi essere figlio di puttana Per prendermi pure per il culo Dopo tutte le bestemmie Che devo tirare Per arrivare qui sopra O comunque per arrivare Al livello 29 in generale Dopo quel livello 25 Di merda Cristo Sto figlio di troia Maledetto Ah Vabbè Niente Possiamo aprire la porta Quindi a questo punto Facciamo così Ce la facciamo Ok 1 2 3 4 Qui c'è un pulsante Che a quanto vale Serve solo per Eeeh L'ascensore Ok Non ci credo Ce la facciamo E quindi E quindi Ma qui non ce l'avevo già arrivati Ah ok Mi ha aperto questa porta Ok Livello 30 Close door again Che senso E no E mo Mo che l'ho chiusa E se dovesse Tipo servirmi Aperta Eeeh Lì c'è un buco Ok E no E no Scusa E se tipo mi serviva Che faccio Mi attacco al cazzo Boh Vabbè Che vi devo dire Mi attacco al cazzo A quanto pare Mi attaccherò al cazzo Vabbè E niente Ehi tu Ti ho visto Bastardo infame E tornato il vermone E vabbè E niente Ce ne dobbiamo fare una ragione Vermone di merda Dobbiamo stare attenti Pure al suo stronzo E va bene Ok Qui cos'è Ci indica Che dobbiamo andare Da quella parte E come scendiamo Da quella parte Scusa Non così A quanto pare Se tipo salto Lì sopra No Vabbè E questo è giusto Per capire In realtà Non è che No Non si fa così Boh Regà Non lo sto capendo Non sto capendo il livello Ciao Se tipo mi ammazza Dove respawno Respawno qui Ok Ok Eeeh Devo andare per forza qua Io se cose le potrei Tipo capire nel prossimo livello Però ormai sono curioso Eh ma Lì sopra non si salta Non si arriva Anche volendo Non lo so Se tipo faccio così Ok Ok E poi Perché da qua Non posso andare da nessuna parte A meno che non devo Aspettare il vermone Che esca Che non sta uscendo Eeeh Boh Non lo sto capendo Devo essere sincero Non sto capendo Boh Vabbè Niente E ci vediamo nel prossimo episodio Perché non sto capendo Che cazzo fare Ma lo capiremo nel prossimo episodio In qualche modo Almeno spero Quindi boh Ci vediamo Nel prossimo video Perciò signori Per il video di oggi è tutto Se il video vi è piaciuto Mettete like Se non vi è piaciuto Mettete dislike Ma commentate Dicendomi cosa non vi è piaciuto In modo tale che possa migliorarmi Se vi so simpatico Iscrivetevi Magari attivate la campanella Che a me come al solito Non dispiace mai E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti